...veramente di voi, siete diventati degli uomini, questo è la cosa più importante. Un uomo fa un giocatore e non il contrario. Voi siete degli uomini con le palle. Oggi entrate in campo e non avete paura di nessuno. Dovete solamente dimostrare a voi stessi che il cazzo siete degli uomini! E gli uomini non hanno paura di nulla. Gli uomini non si fermano davanti a nessuno. Quindi oggi entrate in campo, giocate tranquilli, perché io, il presidente, Zio Carlo, Gabriele, tutti quanti siamo orgogliosi di voi. Perché cazzo voi siete una squadra. A me l'altro giorno mi avete fatto piangere, quando una persona piange a 43 anni, per dei ragazzini significa che gli avete rubato il cuore. Io sono orgoglioso di voi, lo dico a tutti quanti. Quindi oggi entrate e dimostrate che siete degli uomini, al di là del risultato. Va bene? Sì! Va bene? Sì! Matteo, tu sei il portiere. Rendimi orgoglioso. Qualunque cosa vada, sei un uomo, hai capito? Quindi che fai il castellino? Lugisce! Che fai il castellino? Lugisce! E andate in campo, piazzate! Sì! That way, yo!